musica Ciao ragazzi, sono Andrea Bartongeli italista della Heavy Trash Metal band Artemis e sono qui per presentarvi il mio nuovo video didattico che si intitola The Metal Injection molti degli esercizi presenti in questo video fanno parte di quello che è il mio programma didattico al Modern Music Institute di cui sono responsabile nazionale di chitarra rock metal Grazie a tutti Moser Music Institute è una nuova realtà didattica idata da Alex Tornello che ha deciso di unire la sua esperienza e i suoi principi didattici qui nel marchio MMI Siete pronti per The Metal Injection? Grazie a tutti Grazie a tutti